Pierfranco Midali, ex sindaco di Viganella, collaboratore parrocchiale, quindi per Viganella oggi è una giornata importante perché festeggiate la patrona della chiesa di Viganella con la presenza della statua della Madonna di Europa. Sì, è un evento per noi straordinario. Quando abbiamo ricevuto l'invito da parte della comunità di Europa di poter avere qui tra noi, come prima parrocchia dell'Ossola, la Madonna Nera in questo pellegrinaggio itinerante che compirà lungo tutte le parrocchie della diocesi, è stata per noi un motivo di gioia anche perché cercavamo uno spunto per valorizzare la festa patronale di quest'anno. Per il secondo anno non è stato possibile realizzare la manifestazione a livello civile come si sarebbe voluto, ho visto che altre parrocchie, quella del nostro fondo valle e anche San Bartolomeo hanno rinunciato ai festeggiamenti civili, era comunque doveroso dare un segnale forte alla comunità di coesione in un momento delicato come quello di pandemia e allora l'occasione di avere qui la Madonna Nera è stata davvero un'occasione straordinaria. Abbiamo cercato di valorizzarla in tutti i suoi modi, lo faremo ancora anche oggi pomeriggio con i Vespri, quando la Madonna Nera poi circolerà all'interno delle strette vie della nostra comunità. È un simbolo di gioia soprattutto ma un simbolo di speranza, speriamo che tutta questa pandemia che ci costringe a limitare le nostre manifestazioni, a limitare le cose più belle della nostra vita possa finire e che la Madonna Nera di Europa che è qui in questa comunità ci dia davvero una mano. Mi è piaciuta tantissimo la preghiera che hanno letto i ragazzi della comunità di Europa e è davvero un segno di speranza, quella speranza che davvero ci auguriamo tutti possa giungere al più presto per riportare la normalità nel nostro quotidiano.